ciao a tutti video flash oggi è un video insomma veloce però lo sto facendo qui in casa perché sono andato a ritirare questo bel volumetto che ho fatto arrivare dal titolo zagor contro erling sulle orme di titan una serie di sette volumi che usciranno adesso non so la cadenza esatta però questo il primo poi uscirà ora zero mi sembra che ora zero dovrebbe uscire tra non molto tempo perché ho già visto la pubblicità terrore dal sesto pianeta ai confini dalla realtà ombre su dargo il giorno dell'invasione e il destino di erling quindi qua è la serie completa di zagor contro erling che sono tutti tratti dai numeri della serie quella che esce mensilmente una bella copertina con questo semi semi opaco e in lucido c'è il titolo zagor quindi molto bella questa cosa la costina inizia con si vede già un disegno penso che mettendo tutti i sette numeri formerà poi un disegno unico in rosso c'è sulle orme di titan zagor contro erling in basso c'è il simbolo della bonelli marchio della bonelli e in quarta che vi ho fatto vedere prima anche nero nero opaco con zagor contro erling in lucido il prezzo è di 15 euro e ovviamente come vi ho detto lo troverete o in fumetteria oppure in in libreria come ho fatto io però ho dovuto ho dovuto ordinarlo perché ovviamente questi sono sono volumi che bisogna di solito bisogna sempre ordinarli a meno che il vostro magari di collante di fiducia non sappia già che voi siete uno zagoriano che lo vuole a tutti i costi sono un 350 pagine vediamo un po l'inizio ecco qui questo frontespizio qui guido nolitta gallieno ferri franco donatelli e qua c'è zagor in questo grigio zago che occupa tutte e due le pagine poi qui c'è un po un po di storia consiglio sempre di leggere sono molto interessanti perché c'è molte cose qui da leggere oltre esserci i fumetti qui c'è la copertina ecco della serie delle strisce il mostro di acciaio e vediamo un po ecco qui ci sono vignette tratti dai numeri quali edizione periodica eccolo qui il titan e qui inizia la prima la prima storia prima edizione zagor numero 11 12 maggio giugno del 1966 un bel volume io ho già questi racconti nella serie quella che esce usciva mensilmente però ci tengo ad acquistare questa serie perché sono sono stati i miei numeri preferiti questi qui con della lotta tra zagor e ellinger sono tra quelli tra gli episodi più belli di tutti quelli che ne sono usciti tantissimi ovviamente però questi sono quelli tra quelli più belli un bel volume chi è appassionato di zagor non può non cadere in tentazione questo il primo numero poi uscirà il prossimo adesso di preciso non so quando penso tranno molto e numero fino al numero 7 e qui man mano che usciranno ci saranno i titoli ecco poi in bianco man mano che avanzerà fino al numero 7 quindi una serie che acquisterò e sono soddisfatto di questo acquisto vi saluto e vi do appuntamento ovviamente qui nel mio canale prossimo video ciao